Bene, metti le in ordine. Via! Ottimo! Bene, ora dammi 1800 in fiscia da 25. Molto bene. Ok, ora vediamo come te la cavi col blackjack. 14, sballato. 19, 16, sballato. 13, 18, 14, 19, 20. Qual è il conteggio? Meno 9. Per me è meno 8. Meno 9. Come fai a esserne certo? È la regola. Non devi dubitare mai del tuo primo conteggio. È giusto. Vuole che controlli? Ho detto che è giusto. C'erano voluti 45 minuti, ma ora Jack aveva inquadrato Reynolds. L'uomo non sapeva contare.